Amici di Arcoiris, benvenuti a leggere negli occhi la rubrica cura dell'Associazione Scrittori di Bologna. Alessandro Berselli è il nostro ospite di oggi, è nato, veato lui, nel 1965, più giovane di me, ha iniziato la sua carriera come umorista scrivendo sulle riviste come Comics, Apoditico, riviste molto popolari. Ha scritto questa serie di strane lettere al condominio, lettere molto nere, ciniche, che tempo fa catturarono l'attenzione di Maurizio Costanza, che lo invitò a commentare questi suoi scritti al suo show. Poi nel 2003 ha esordito con i primi racconti noir, molto psicologizzati. Il suo primo romanzo, Storie d'amore di morte e di follia, ha vinto il concorso Arpanet, che ha curato la sua pubblicazione nel 2005. Nuovo romanzo nel 2007, Io non sono come voi. E infine questo nuovissimo libro, Cattivo, è il suo titolo, che ha pubblicato per Disa Pop, che è la sua più recente pubblicazione, che guiderà, credo brillantemente, la nostra conversazione. Ecco, Alessandro, ti chiediamo, come negli inizi delle nostre chiacchierate, di introdurci al tuo libro. Chi e cosa incontra chi entra in cattivo? Bene. Intanto, quando io ho scritto Cattivo, volevo scrivere un po' in testa il romanzo adolescenziale, mi interessava il romanzo di formazione, però ero effettivamente un pochino vincolato dalla fogliazione di questi libri, perché la collana per Disa Pop impone anche proprio una durata al libro, è veramente un libro che si legge, io dico sempre, si legge in un'ora e dieci, due ore se sei un dislessico grave. Quindi mi trovavo ad affrontare questo argomento, generalmente i romanzi di formazione necessitano di un respiro maggiore, mentre purtroppo per Disa Pop mi trovava a chiudere i romanzi in 120 parti. Di un limite preciso. Quindi cosa ne è venuta fuori? È venuta fuori una storia di, io la chiamo di disobbedienza adolescenziale, una storia di disobbedienza che inizialmente sembra una storia di disobbedienza contro abbastanza nella norma, no? Luca Parmigiani, il protagonista, è un personaggio che è contro la famiglia, contro la scuola, contro le regole, che sono quelle che poi vengono in qualche modo imposte agli adolescenti, ma poi il libro a un certo punto declina verso una versione un pochino più profonda. E anche il titolo, Cattivo, che voleva in qualche modo sintetizzare un pochino quello che era lo spirito del libro, voleva anche essere un modo per fare capire che tipo di cattivo è Luca Parmigiani, cioè un cattivo indifferente, un cattivo che non fa gerarchia nelle cose che decide di fare, quindi andare a scuola la mattina, ubriacarsi con gli amici, fare le prove con il gruppo e anche quella che poi è la violenza più forte che a un certo punto ci troviamo ad affrontare nelle pagine del libro. Ecco, proprio un po' ce lo hai anticipato, ma quando ci si inoltra nella lettura del tuo romanzo si apprezza proprio questo, come posso dire, questo spirito sociologico nel leggere, sembra quasi proprio che sia un esemplare, più che una narrazione di una vita precisa, una storia è che tu abbia quasi voluto fare un ritratto sociologico, è la prima versione del pensiero sul tuo libro che mi è venuta. È un intento oppure avevi in mente una storia? Oppure sai, c'è quello che si mette lì e dice, ho il messaggio, questa cosa terribile da dare, voglio parlare di questo problema, allora approfitto di questo personaggio, oppure è il personaggio che ti ruminava dentro? È un'intenzione quella di fare un quadro così devastante della gioventù contemporanea? Guarda, ti ringrazio per questa domanda perché effettivamente mi sono accorto, e questa è un po' la meraviglia di quando noi scrittori ci troviamo a interagire con le persone che hanno letto i nostri libri. Che noi pensiamo comunque di comunicare un determinato tipo di cosa e poi ti rendi conto che invece questa cosa può arrivare alle persone che ti leggono in una maniera anche molto più ampia. Io in realtà volevo semplicemente raccontare una storia, quindi mi interessava comunque la storia di Luca Parmigiani e la storia anche del disagio esistenziale di Luca Parmigiani anche nei confronti dei suoi genitori, senza comunque fare in qualche modo un affresco di quella che era la gioventù contemporanea. Tanto più che anche ad esempio la scelta del personaggio, io ho scelto un 17enne abbastanza sui generis, avrei potuto scrivere di un 17enne che ascolterei poi pop e avrei sicuramente collocato di più Luca Parmigiani nelle generazioni che nel 2009 si trovano ad avere 17 anni. Invece Luca Parmigiani ad esempio ascolta heavy metal anni 80, quindi un tipo di musica distante, lui già all'inizio è come se prendesse, si affrancasse dalla sua generazione, dice ascolto un genere di musica che non va più tanto di moda ma me ne frego. E' proprio semplicemente una storia. Però vedo che effettivamente in realtà il racconto è arrivato a molti lettori in modo diverso, quasi come se ci fosse appunto invece questa intenzione. Tocca tasti molto particolari che vanno al di là della pura fruizione di una bella storia o dura storia, ti invitano a pensare a ben altro che a come si stanno svolgendo i fatti. Una cosa che è interessante è che è il ragazzo che parla, è lui che racconta questa storia, quindi l'interpretazione si sviluppa su tanti esempi che potrei. Mi sono segnato parecchie cose per le quali ti chiederò un commento. Sono pronto. A un certo punto lui dice a pagina 87, in realtà c'entrano tutti qualcosa, lo dicono sempre che se noi giovani siamo così, la colpa è solo della società che ci circonda. qui mi sono un po' fermato perché mi sono chiesto, appunto, è lo stesso ragazzo che lo dice, ma che proposito ha quando lui di sé dice una frase così? È ironico o crede davvero a quello che dice? Si sente una vittima o sta scherzando sul fatto che lui non ha? Poi è uno molto solo, non ha questi contatti mondani con la società che lo circonda. Com'è questa scelta innanzitutto dell'io narrante che è un vero io e questa frase qua mi ha lasciato un po' così, ma ci fa o ci è? È un po' tutti e due secondo me, se mi permetti la risposta, e non è un volere glissare la risposta, ma in realtà è così. Allora il monologo interiore che è un po' la mia cifra narrativa perché comunque tutte le cose che ho scritto hanno comunque questo tipo di approccio, quindi comunque l'io narrante, il monologo interiore, il flusso di coscienza, chiamiamolo come ti pare. E credo che anche comunque i temi di un po' quello che è appunto il mio modo di raccontare le storie ci siano tutte, perché ci sono comunque le apparenze, cioè il fatto che non sempre le persone, anzi quasi mai le persone, sono esattamente quello che sembrano. Il disagio esistenziale nei confronti della vita, quindi il fatto che, e qua ci permette un forte autobiografismo, non volersi adattare alla vita come gli altri ci hanno detto che debba essere. L'idea di Luca Parmigiani... È un po' quello che caratterizza tutti gli adolescenti, però anche questo libro è portato agli estremi. Secondo me è anche un po' l'età adulta, perché io partengo a quella che Douglas Coupland definì la generazione X una quindicina di anni fa, che erano gli allora trentenni irrisolti che non riuscivano a diventare grandi e adesso sono i quarantenni irrisolti che ancora si interrogano su come diventare grandi. Perché noi siamo stati un po' una generazione... Io soffro molto di questa cosa. Allora, la mia generazione non ha fatto il 68, non ha fatto il 77, io mi sono iscritto nel superiore nel 79, quindi sono arrivato dopo tutto. Non sono neanche potuto godere dell'edonismo della generazione successiva, perché... Non si è riuscito a diventare uno yuppi? Non sono riuscito a diventare uno yuppi, perché ero già troppo vecchio quando lo yuppismi si è fermato, per cui si è rimasti in merda. Allora non stiamo consegnando nulla alla storia e neanche il disimpegno. E Luca Parmigiani forse ha voluto mettere un me stesso embrionale collocato però 30 anni dopo quella che sarebbe stata la mia adolescenza. E quindi una non collocazione generazionale, perché Luca Parmigiani, tu hai detto giustamente, non si riconosce in nulla di quello che gli sta succedendo e non si ritrova neanche in nulla. Quindi non lo è e non lo fa. Cioè sta lì in mezzo e non gli interessa niente fondamentalmente. Il suo atteggiamento è molto neutro di fronte sia all'evento più drammatico che all'evento più banale. Per cui è un po' agghiacciante come figura per l'attore proprio per questo. Perché rimane sempre tutto allo stesso piano, certo. Ecco, un altro dei luoghi comuni più eclatanti quando si va a parlare sociologicamente dei giovani e del loro mondo. Soprattutto è quello di chiamare in causa la famiglia. Il quadro di questa famiglia è veramente desolante. Io vorrei citare soprattutto per il lettore una scena in cui ci sono i due genitori che parlano del figlio come se lui non ci fosse. Come se lui non fosse lì presente in quel momento e credo che sia un'idea narrativa e un quadro preciso di come si può essere il problema dei propri figli e non la soluzione, essendo una famiglia, mi ha veramente sentito i brividi lungo la spina dorsale. Che diavolo combinano queste famiglie moderne con questi giovani? E anche qua ci sarebbe da articolare la risposta sociologicamente. Io guarda, ti dico, ho voluto scegliere un pochino di simboli in questo libro, che sono, allora, sia per quanto riguarda i genitori. Intanto non volevo scegliere un protagonista che fosse borderline, cioè volevo un protagonista che appartenesse a una famiglia, dico tra virgolette, di successo, perché poi in questo caso ritorna un po' il tema delle apparenze. Di successo, nel senso che il padre è comunque docente, è un ordinario di fisica dell'Università di Bologna. La madre insegna nella sezione linguistica di questo liceo blasonatissimo, che non viene citato, ma che è chiaramente il Galvani, e che sono scelte appunto come simboli perché rappresentano quello che è il massimo a cui si possa aspirare. Dopodiché Luca Parmigiani nasce in questo, però è una famiglia dove all'interno della famiglia si consumano un sacco di distorsioni, un sacco di non comunicazioni, e tu hai colto, secondo me, quello che, mentre io scrivevo Cattivo, voleva diventare un po' l'emblema di questa non comunicazione. Cioè il padre e la madre è talmente incapace di comunicare con il figlio da parlare tra di loro come se il figlio non fosse presente. È una scena veramente terribile. Secondo me è richiamata poi nell'altra parte in cui il padre decide di parlare con il figlio dopo che ha letto un manuale parla con tuo figlio. Fino a quel momento è come se non avesse capito come si parla con un figlio, poi frequentando le librerie con questi manualetti, uso pratico per genitori e altro, trova questo libro, parla con tuo figlio, lì c'è scritto tutta una serie di cose che diventano un po' il suo manuale di comportamento. Ecco, vedi, non è che si nasca saputi, in niente, neanche genitori, ma alla fine il mondo della sensibilità, secondo me, apre le strade della comunicazione. Invece in questo libro facciamo una gran fatica a trovare questa sensibilità e vorrei inserirmi nel tuo commento precedente con quest'altra citazione di pagina 23. dice Luca, perché a me non piacciono le cose spiegate, le cose devono essere evidenti senza bisogno di chiavi di interpretazione e poco più avanti abbiamo perso la capacità di essere semplici. Secondo me, detto da lui, ha ancor più valore una frase del genere. Ecco, ma è questo a cui siamo arrivati? Abbiamo perso la possibilità di un pensiero autentico? Il padre va a leggersi un manuale, la madre è spesso fuori casa e guarda caso c'ha pure un amante, l'aspetto generale nei confronti degli avvenimenti di Luca è quello di freddezza e di stacco. C'è ancora la possibilità non solo di avere un pensiero autentico ma una personalità o siamo tutti degli automi in questo modo sicuramente esemplare, simbolico, hai detto del resto eri costretto alle cento pagine dovevi essere simbolico e non potevi fare un romanzo alla sacra o riscrivere l'Ulissi di Joyce. Ecco, ma siamo veramente in una deriva tale che ci permette di non, che ci costringe a non avere neanche una personalità, è una cosa realistica questa secondo te? Beh, un po' guidati e condizionati secondo me lo siamo, io leggevo tra l'altro un saggio sulla letteratura per ragazzi, si parlava comunque del fenomeno Harry Potter ad esempio, Harry Potter è un fenomeno tra virgolette costruito, nel senso che si è deciso che questo tipo di personaggio sarebbe dovuto piacere a, e secondo me questa è un po' una logica che informa tante cose, poi ce ne accorgiamo, leggiamo tutti le stesse cose oppure stigmatizziamo tutti quella televisione che poi tutti guardiamo, quindi è come se non ci fosse più un'offerta che viene incontro alla domanda, ma la domanda fosse fortemente condizionata dall'offerta, quindi si decide l'offerta, la si massifica e a questo punto ti viene tolto quello che è anche la capacità di pensare, cioè tu accetti quello che ti viene proposto. A me una volta era il mercato, cioè la gente che decideva il mercato, adesso il contrario, il mercato che guida. Io mi occupo, io lavoro in una realtà commerciale e mi rendo conto che non c'è più, una volta allora si ascoltava quello che era il tuo cliente e producevi in modo che il tuo cliente fosse soddisfatto nelle sue aspettative, adesso è esattamente il contrario, fai comunque una proposta e convinci il cliente che quella è la miglior proposta possibile. In questo senso il tuo romanzo ha un impatto politico non secondario se ci inseriamo in questo modo di pensare e a questo proposito credo che si inserisca bene quest'altra citazione che voglio fare e alla quale ti chiedo un commento di pagina 21. Succede sempre così quando si perdono di vista le priorità facendo avere sopravvento ad altre cose. All'inizio sottovaluti il pericolo, poi il pericolo ti entra dentro e a quel punto sei finito. A quale pericolo ti riferisci? Beh lui in quel momento sta parlando comunque del suo rendimento scolastico, quindi lui appunto in questo universo di indifferenza ogni tanto ha dei momenti di illuminazione in cui dice che sto perdendo un po' il controllo delle cose, lui vorrebbe che tutta la sua vita potesse andare avanti senza dover esercitare nessuna forma di controllo, nessuna forma di ingerenza nel fluire delle cose. Però a volte si rende conto che questo non è possibile, allora sono i momenti in cui non so tipo cerca di impostare un rapporto di tipo affettivo con una persona oppure cerca di recuperare il suo debito scolastico. Lui questa illuminazione ce l'ha solo nella musica, nella musica credo che tutto il libro sia attraversato da questa sua voglia di affermarsi ed è veramente una cosa in cui lui mette molta dedizione. A un certo punto lui dice anche criticando l'atteggiamento di un compagno del suo gruppo che non è ad esempio puntuale alle prove, la musica viene prima di tutto, poi ci puoi mettere le ragazze, ci puoi mettere la droga, ci puoi mettere quello che vuoi, ma la musica prima di tutto. Nelle altre cose lui appunto ha questi momenti di illuminazione, in questo caso è il accidenti, pensavo che anche non studiando, lui cita il caso di Jimmy Enders, dicendo che Jimmy Enders è un chitarrista che è diventato grandissimo senza studiare la musica. A 25 anni era già un mito senza aver fatto niente. E lui dice perché tutta la mia vita non può essere la stessa cosa? Perché non posso essere bravo in tutte le cose della vita senza studiare, senza applicarmi? Quando questa cosa non gli riesce è un po' urticato e quindi ha queste reazioni, ma poi durano pochissimo, in realtà evaporano. Ecco qui, questo secondo me è una precisazione da fare al tuo futuro lettore, c'è una grande normalità apparentemente nella vita di questo adolescente e quasi quando arriva l'evento con la E maiuscola che è traumatico, traumatizzante. Che si può dire anche perché dopo è eccitato in quarta di copertina. Quando si arriva ad un omicidio così fatuo e questo è lo stacco narrativo che fa un grande balzo in avanti, dopo la descrizione di questa apparente vuotezza con qualche sussulto, come abbiamo detto, c'è l'evento impressionante che dà poi ancora una connotazione più forte al libro. Quindi credo che sia questo dal punto di vista narrativo la cosa più importante per chi legge, capire come si arriva a queste cose qua. Però vorrei proprio entrare un po' di più adesso nel laboratorio dello scrittore perché è quello che intervista anche una rivista letteraria come la nostra. Hai adattato questo stile molto sincopato, un po' frammentario, che io ho vissuto quasi come una partitura, mi sembra molto regolare nello suo passare da questo a quell'altro. Benissimo, ho visto bene. Come sei riavato o hai scelto questo stile che è cupo e nervoso assieme? Potrebbe essere strano associare questi due aggettivi. Secondo me questo stile è un altro personaggio del tuo romanzo. Qual è stato il tuo percorso di scrittura per arrivare a questo stile così? Perché sono un musicista mancato. Quando ho 17 anni probabilmente ero un Luca Parmigiani potenziale. Tanto io sono contento di non essere diventato un musicista ma di essere uno scrittore perché come musicista a 44 anni sarei probabilmente un musicista finito mentre come scrittore sei ancora additato come giovane scrittore. Quindi c'è anche questa fortuna della scrittura rispetto alla musica. Però credo che mi sia rimasto molto della forma... Io delle volte mi rendo conto di scrivere come se stessi scrivendo un testo di una canzone. Quindi lo stile viene quasi come se fossero comunque delle... le frasi difficilmente superano la riga. Io tra l'altro ci sono due cose che cito sempre, due aforismi che cito sempre quando faccio le presentazioni o quando mi trovo a fare dei corsi di scrittura. Uno è di Carver e uno di Wittgenstein. Carver citando Gardner dice se una cosa puoi scriverla in 10 parole e non usarne 15 o 20 ma usane 10. Wittgenstein completa questa cosa con se una cosa può essere detta con parole allora può essere detta anche con parole semplici. Quindi l'idea un po' dell'essenzialità e comunque di una scrittura che debba essere il più possibile fruibile e anche in questo caso Luca Parmigiani quando faceva quella citazione che dicevi prima non c'è più nulla di chiaro, io mi ci ritrovo abbastanza. Io ho letto, credo, ho praticato letterature molto complicate nella mia età adolescenziale. ti citavo prima, stavamo parlando prima dell'inizio di questa intervista, amo molto la letteratura dell'Ottocento, amo molto il Novecento europeo quindi Manes, comunque scrittori anche criptici difficili di decodificare. Mi sono stancato un po' di questo, continuo ad amare nel ricordo però ho veramente voglia anche di grande semplicità, ho voglia di plot, non ho voglia di nulla che sia zavorra. Questo nella letteratura, nel cinema e anche nella musica. La musica io mi sono formato con i gruppi progressivi degli anni settanta e i 15 minuti di Assolo di Richie Blackmore per citare comunque un chittarrista che viene citato nel libro in Made in Japan di Dear Purple mi sembravano normali. Adesso una canzone che dura più di tre minuti e mezzo mi sembra inutile, è insopportabile. Quindi insomma ho cambiato un po' di cose e quindi di questo ci sono molte cose, molti dei ragionamenti di Luca Parmigiani in realtà mi appartengono. Quindi potrebbe dire forse che questa cifra della violenza, perché c'è della violenza in questo tuo scrivere, è proprio il segno del tuo scrivere, però chi ti conosce, chi chiacchiera un po' con te non ci crede proprio che sia questo tuo il suo registro. Dimmi che stai scrivendo un grande romanzo d'amore, dimmi, raccontami cosa c'è insomma nel laboratorio dello scrittore. Perché c'è un cuore di panna tu dici dentro questo scrittore nero. Sì, anche mia mamma pianto quando ho letto il mio primo libro perché è impossibile che il mio bambino abbia scritto una cosa del genere, perché Storia d'amore di Morti Folia era veramente un libro tremendo, ho scritto, ero veramente stato molto pesante anche nelle cose, insomma mi sono un pochino edulcorato. Però è vero, non lo so, io parlavo con un amico neuropsichiatra di questa cosa e mi diceva che scrivere serve un pochino per lasciare decantare quelle che è comunque il nero dentro di noi, insomma siamo tutti un po' bipolari, quindi abbiamo tutti un… Si dice che il principale, la pagina bianca è il principale antagonista psicanalista. Certo, quindi quella che è la mia dark side finisce nelle cose che scrivo, poi quello che rimane in superficie è tutto più leggero. La scrittura come autoterapia funziona e quindi è vero, perché io sono una persona molto diversa dai personaggi che scrivo, sono completamente diversi, però presumo che se questi personaggi finiscono sulla carta vuol dire che dentro di me qualcosa di tutto questo ci deve essere, quindi bisogna anche essere onesti con se stesso nel riconoscere. Sicuramente una grande forma di curiosità sul perché succedono le cose, io me lo chiedo anche quando guardo i fatti di cronaca, un fatto di cronaca che cito spessissimo perché mi ha molto ispirato in questi personaggi che crescono nel loro orrore, erano i coniugi romani, quelli che uccisero quelli che abitavano al piano di sopra perché facevano troppo rumore, eccetera. Che al momento dell'arresto... I vicini di erba, non loro infatti, l'erba dei vicini è sempre più bello. E mi ricordo che la signora Romano disse, era già due anni che meditavamo questa cosa, allora io pensare che per due anni ogni sedia che viene spostata, ogni televisione a volume troppo altro, ogni bambino che piange diventa un qualcosa che fa implementare la follia e per me è una grandissima fonte di ispirazione. Ecco, io subisco molto il fascino di queste cose, poi quello che rimane la vita di tutti i giorni, grazie a Dio, è un pochino più leggero. È un po' più leggero, è più semplice. Però un progetto ce l'avrai sicuramente, raccontaci che cosa stai preparando. Come scrittura, dici? E che cosa c'è in arrivo. I progetti sono sempre piuttosto neri, quindi comunque c'è già un romanzo finito che dovrebbe uscire nel 2010, con protagonisti, personaggi che potrebbero tranquillamente essere i genitori di Luca Parmigiani, però diciamo con una dimensione un pochino più intimista. Su quello invece che è il lavoro nuovo che sto proprio preparando, quindi su quello che poteticamente potrebbe uscire nel 2011, allora credo che comunque sia i temi fondamentalmente non si discosteranno tanto. Però è vero che c'è comunque un interesse più forte. Mi piace molto l'idea ad esempio di un romanzo corale, ed è un po' la cosa a cui sto lavorando. O delle volte ho delle ispirazioni che non sono letterarie, ma sono tipo cinematografico musicale. L'idea di un libro che potesse tradurre ad esempio la potenza di un film come Il Grande Freddo mi piacerebbe tanto. L'idea non è originale, quindi andrebbe sviluppata in modo un pochino più personale. Però ecco questi confronti tra vite, il bilancio e i bilanci esistenziali che si... Un grande romanzo dell'Ottocento. Un grande romanzo dell'Ottocento, esattamente. Hai amato molto quel tipo di letteratura, però insomma la coralità secondo me... Declinato il terzo millennio, certo. Perché qui Luca Parmigiani è un clamoroso esempio di io intoccabile, inarrivabile, quindi le coralità richiedono altre cose. C'è un'altra cosa che ti voglio chiedere e rientra proprio in una curiosità personale e penso possa incuriosire anche i nostri ascoltatori. Hai fatto moltissime citazioni. musicali, di cinema, parlando di storia corale, con quello che ho letto di te direi tu avresti potuto scrivere Pulp Fiction, per esempio. Che bello. E sarebbe stato bello. Mi avrebbe consegnato la storia del cinema. Avresti potuto scrivere Pulp Fiction. Invece quel Kent in Tarantino lì... Ti ha fregato per un po'. Secondo te come mai questo interesse per gli scrittori contemporanei dopo i nostri grandi padri, non so, Macchiavelli, così che ha riportato in auge i primi romanzi di Carlo Lucarelli, così che hanno riportato in auge un genere. Perché noi, pardon, perché gli scrittori di gialli noir contemporanei hanno sempre questo riferimento? Cinema, musica, storie, fiction, televisiva. Pochissimo rimando letterario. È verissimo. E guarda, su questa cosa... Non sento mai parlare... Io sono cresciuto a Pan e Chandler. Citerei Marlowe in ogni occasione, se fosse possibile, sia quello magari filmico, ma soprattutto quello dei romanzi. Come mai tutta l'attenzione dei nuovi autori di giallo noir è così visiva, così filmica, così... Anche nello stile. Tu, il tuo stile sincopato secco da inquadrature, tra virgolette. Guarda, sapevo che sarebbe arrivata la domanda a cui non so rispondere, ma effettivamente è arrivata. Io mi sono interrogato molto su questa cosa e mi è capitato anche spesso di parlarne sul perché, ad esempio, io pur essendo, credo, un buonissimo lettore, quindi avendo letto tante cose, poi alla fine siano state poche le cose che dal punto di vista letterario mi hanno dato quella potenza di ispirazione che poi genera l'idea che ti porta... Che tra l'altro nel caso di Cattivo in realtà c'è stato, perché io stavo leggendo, prima della stesora di Cattivo, Paranoid Park di Black Nielsen, il libro, da cui poi Gus Van Sant aveva tratto quel bellissimo film. Però ti devo dire che anche in questo caso è stato molto più... Il libro di Black Nielsen con me è bellissimo, però è stata più forte dal punto di vista evocativo l'iconografia che Gus Van Sant è riuscito a dare a questa storia rispetto alla potenza letteraria del libro di Black Nielsen. Quindi è vero, è vero, perché io mi rendo conto che tante volte vedo un film e dico mi piacerebbe scrivere un libro che fosse sulla carta quello che questo film è per il cinema. È un'osservazione realistica perché se tu pensi i nostri romanzi hanno un impatto quasi visivo, i romanzi moderni, le storie, compreso Stiglarsson che scrive mille pagine per fare un romanzo, ma è visivo in maniera netta e l'introspezione psicologica è sempre passata come un accessorio delle storie. Una cosa che ho notato e di cui volevo condividere con te e vedo che tu condividi. È cambiata moltissimo la scrittura. Possiamo essere immune da questa cosa. È cambiata moltissimo la scrittura, è più visiva perché noi siamo anche, comprese le tv libere come arco iris, siamo più attratti dall'immagine e i libri si sono un po' visivizzati. Io credo la cosa, Franco, pensa anche comunque come può essere cambiato anche il modulo. Io mi rendo conto che sono arrivato tardi alla tecnologia, nel senso che ho cominciato a scrivere che internet non era ancora una realtà, gli sms non esistevano, quindi scrivevi a mano. E mi ricordo, se vado a leggere le cose che scrivo vent'anni fa, c'erano frasi lunghissime, piene di secondari, quindi volevo dire che vent'anni fa l'elemento letterario, per me la scrittura era ancora letteraria, quindi la scrittura era quella dei maestri che avevo letto. Adesso la scrittura è fortemente condizionata anche dalla posta elettronica, da come mandi un sms, tu paravi prima di frasi brevi, ritmo sincopato, è vero, è tutto come se fosse, ogni frase forse se andassi a contare la lunghezza dei caratteri, ogni frase forse sta nei 160 caratteri di un sms, perché probabilmente siamo un po' condizionati adesso, abusando di questi sistemi, tutto diventa poi, si riduce poi allo stesso modo di scrittura. Nel tuo caso devo dire che è proprio riuscito, perché come ho detto prima, anche il tuo stile è un personaggio di questo breve ma intensissimo romanzo. Lo prendo come un bellissimo complimento. Te lo meriti perché si legge ai nostri amici che ci ascoltano, dicono che non si legge in un'ora e dieci o due ore se si è dislessi, ma si legge forse anche meno di un'ora perché bisogna, c'è una coazione alla lettura che è propria di poche storie. Io ringrazio moltissimo Alessandro di essere stato con noi. Grazie a voi. Vi ricordo, amici, che il libro si chiama Cattivo, è pubblicato dall'editore Perdisa nella sua interessantissima collana, Babele Suite, essendo noi in rete vediamo qualche modo di contatto. Insomma, qui non è dichiarato, ma penso che senza alcun problema digitare... C'è anche il mio sito, quindi www.alessandroberselli.it con l'indirizzo di posta elettronica già attivabile all'interno. Benissimo, quindi potete comunicare anche con lui dopo aver letto Cattivo. Come tutte le altre volte, io ti chiedo di personalizzare il mio libro perché la mia collezione sta diventando impressionante, devo coltivarla e noi ci dedichiamo alla nostra perla conclusiva. Questa sera vi leggo una citazione che è citazione di una citazione da Karl Krauss. Sentite cosa dice questo commentatore di Karl Krauss. Sempre Krauss sostiene che uno scrittore dovrebbe più vivere che leggere, mentre per divertirsi più scrivere che leggere. Leggere è quindi per Krauss una attività negletta. Invece credo che, una volta accettata una propria amabile dipendenza dal leggere e dallo scrivere, sia importante dare a questi un valore appropriato, ovvero metterli sullo stesso piano del vivere, scrivere e leggere e vivere, non l'un contro l'altro armati. Grazie di essere stati con noi e al prossimo incontro. Grazie a voi.